Maratea la leggenda della chiesa di San Vito Secondo un'antica leggenda, la chiesa di San Vito fu fondata dai cavalieri templari. E le prove sarebbero dei simboli al suo interno che li ricordano ad esempio la croce fiorata in fronte all'altare e al centro della volta a crociera si trova l'immagine di un capretto all'interno di una cornice a pentagono che alcuni interpretano come il capro baphomet simbolo dei cavalieri templari. Un altro simbolo è la croce di ferro sul pavimento della chiesa altro simbolo legato ai templari. Un altro elemento più enigmatico è legata alla pietra visibili delle sue fondamenta. Queste pietre, secondo antiche credenze, erano cariche di un'energia speciale. Chi vi si appoggiava poteva ricevere benefici per la salute e lo spirito. Questo culto dell'energia della terra potrebbe derivare da pratiche pagane che precedono la costruzione della chiesa.